Casa di salute ha particolare beneficio dei nevropatici. In Toscana, anche in Londra da Pistoia e a vista di Firenze, sulla meno colle che dicesi Colle Gigliato, in una villa elegante e insieme grandiosa, si è ora aperta una casa di salute, dove troveranno tutti comodi e soccorsi di cui possono bisognare malati dell'uno e dell'altro sesso in preda a croniche affezioni. Essa è però indicata particolarmente per gli individui travagliati da nevropatie, per i dementi e i melancolici, i innocui e tranquilli, per gli epilettici, per le isteriche, per quelli che soffrono di ecorea, di paralisi, di nevragie, ecc. La nuova casa, oltre a trovarsi in condizioni igieniche e felicissime per la purezza balsamica dell'aria, per il sorriso del cielo, per la bellezza delle prospettive e delle passeggiate, ha il vantaggio di essere vicinissima ad interessanti città e alle famosi sorgenti minerali di Montecatini. È provveduta di biliardo, pianforte, di quant'altro occorre per il trattenimento della vita. Possiede gli apparecchi necessari per le applicazioni idro- ed elettroterapiche. Ed è diretta, ciò che noi apprezziamo soprattutto, da una verissimo medico, qual si mostrò il signor dottor Agostino Sberpoli, addetto da sei anni a una direzione del Bonicolo di Pesaro.